allora ragazzi in questa puntata non ci sarà legno non ci sarà resina ci sarà il mio bagno ho deciso di togliere la vasca e di mettere un box doccia non so nulla della parte idraulica quindi mi affiderò a un professionista però tutto quello che io posso fare nel senso che non serve grande abilità lo faccio e mi arrangio quindi il primo passo è stato un martello demolitore su amazon e con il martello andrò a togliere tutte le piastrelle alle pareti al pavimento no in quanto posizionerò del PVC toglierò momentaneamente i sanitari solo per togliere meglio le piastrelle e poi rimonterò gli stessi in quanto quelli che ho attualmente sono belli e il lavabo probabilmente al momento lascerò questo però vediamo perché potrei fare qualcosa in legno e resina è una roba un po' figa a a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.